È un curriculum vitae di primo ordine quello di Luisa Capasso, la dottoressa che lo scorso 1 aprile ha preso ufficialmente il posto di Franco Falcini alla guida della direzione amministrativa di Marche Nord. Il direttore generale dell'azienda ospedaliera Aldo Ricci ha aperto questa mattina la conferenza stampa di presentazione della nuova direttrice amministrativa. Bolognese di nascita, laureata in giurisprudenza, abilitata all'esercizio della professione di procuratore legale nell'87, ha cominciato la sua carriera in sanità nell'82, una scalata veloce la sua. Dal 1997 è il direttore degli affari generali e istituzionali e convenzioni dell'azienda ospedaliera Università Sant'Orso alla Malpighi di Bologna. Inoltre ha ricoperto per quattro anni il ruolo di direttore del dipartimento tecnico, poi nel 2011 è stata nominata anche direttore amministrativo dell'azienda bolognese. Questa mi è sembrata una sfida, non tanto per i problemi particolari che ci possano essere qui in questa azienda, ma anche perché mi interessa il sistema Marche che è diverso dalla regione Emilia Romagna, quindi è stato un avvicinarsi anche a un'esperienza diversa. Credo di aver trovato un bell'ambiente, molte persone che mi stanno accogliendo bene, un po' scherzando, dicevamo stamattina, mi sembra già di essere qui da tanto tempo, in realtà sono solo tre giorni. Quindi quello che mi prefigo come primissima priorità è quella di conoscere bene le persone con cui lavoro e sentire un po' da loro e impegnarmi a supportare naturalmente la direzione generale come meglio potrò. C'è stata una piena continuità amministrativa, garantito Ricci, che per questo incarico, oltre alla professionalità, ha valutato anche il livello di motivazione personale. Io la dottoressa Capasso la conoscevo perché eravamo giovani quando abbiamo iniziato a collaborare dalla, come si dice, gavetta, io nella parte sanitaria e lei dalla parte amministrativa a Bologna. Questa azienda necessita di una continuità. Questa continuità c'è stata, tanto che dal primo aprile ha cessato il dottor Falcini, che ringrazio ancora, per tutta l'attività che ha svolto in quest'anno, che è stato molto importante. Il direttore generale ha poi parlato dell'approvazione da parte della regione del piano assunzioni. Nel 2014 era prevista una riduzione della spesa del personale sul 2015 di 1.400.000 euro. Se avessimo dovuto operare con quel vincolo, ha detto il direttore, avremmo avuto problemi enormi. In realtà abbiamo ottenuto un piano assunzioni che ci consente una vita regolare grazie ad un contenimento della spesa di 400.000 euro. Nonostante questo taglio, una quota di personale arriverà dall'area vasta che assumerà sei medici e quattro tecnici, di cui due di radiologia e altre tanti di anatomia patologica. Medici, infermieri e tecnici che ci permettono una programmazione per l'anno 2015 normale, con un piano ferie estive di riduzione identica all'anno precedente e non una drastica riduzione come abbiamo avuto, ad esempio, nell'anno 2013, proprio per carenza di personale.